Quanto è lungo ancora! Ci schianto! C'ho il look per cento dell'ultima vita! Non hai capito te? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale! Oggi facciamo un nuovissimo video di... Roblox! Allora, è tantissimo che non porto un Roblox, lo so, lo so, scusate. E oggi lo porto con questo zucchino qua. Expedition Antarctica, ovvero spedizione antartica. Prima di iniziare vi ricordo di mettere un sacchissimo di like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere tutte quante le notifiche. Adesso, sigla e partiamo! Popi, popi, popi... Ah! È bello questo, eh! Allora, Expedition Antarctica. Possiamo iniziare, gioca. Seleziona un po' esito a rappresentare. Ok, allora noi rappresentiamo l'Italian. Allora, sono qua fuori. Cosa vuoi? Sono qua fuori, è freddo al gelo, ci sono... Ah no, meno 82 gradi. Eh, devo entrare? Ok. Sono entrata. Allora, in basso, a destra, abbiamo la vita, che è 100%, la sete, 94%, e l'energia 100%, quindi per ora siamo a posto. Meno quale. Allora, possiamo prendere qua la tuta, ok? Il casco, ok. Lo zaino, ok. E le scappe. Perfetto, siamo pronti! Poi, poi abbiamo una mappa che è più grande di noi, poi abbiamo un walkie-talkie, con cui possiamo chiamare aiuto, SOS. E poi abbiamo l'acqua, borracci 100%, ok. Con cui posso bere. Perfetto. E poi qua cosa c'è? Una barretta energetica. Barretta energetica. Barretta energetica! Se può mangiare solo una volta, ottieni un aumento di energia fino al 50%, ok. Ora c'è il 100%, quindi penso che non mi serva. Allora, io direi di partire. Partiamo. È buio, non vedo una cippalippa. Possiamo qua. Ok, casco. Aspetta. Mi sposto. Allora, casco. Sì, ci vuole. Poi, maschera no, occhiali no. Luce. Ok, luce. Perfetto. Possiamo partire. Partiamo. Allora, di qua devo andare? Sì, qua cosa c'è? Il timer. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio, ma questo è un pinguino. Ciao! Oh, che carino. Ma l'avete visto? Ho fatto un salto che... Pinguino. Ok, lasciamo in pace il povero pinguino. Dove devo andare? Ok, non so. E avviamoci in questa avventura. Avventura. Polo Sud. 1934 chilotti. A piedi. Al buio. Con meno 84 gradi. Va bene. Un fattibilissimo, no? Cosa ci vuole? Io questo lo faccio ogni giorno. Ok, allora. Dove devo andare? Ok, in là. Oh, si scivola. Oh, aiuto. Oh, aiuto, si scivola. Eh! Ok, qua non si scivola. Allora, scaletta. Tit, 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 tit. Lucina. Lucina. In qua? Oh, madò. Non vedo nulla. Ok? Ok, così. Ok. Oh, madò. Stavo per cadere. E paura. Allora, scaletta. Oh, aiuto. Scendiamo. Oh, bello. Di qua devo andare? O di là? No, di qua? Di qua? Sto facendo sì per vedere di là. Di qua? Di qua devo andare? Su. Oh, guarda, si vede il coso d'adulto. Cos'è quella cosa? Oh, boh. Di qua. Oddio, vedo già delle robe che non vi piacciono laggiù. Oh, oddio. Stavo per cadere. Allora, protegga. Per ora è tutto tranquillo. Per ora. Ripeto. Per ora. Continuiamo. Aiuto, non vedo. Oh, ci sono i cristalli. E quali? I cristalli. I cristalli. Ah, poi c'è il primo saltino. Cadrò di sicuro. No! Ok, ce l'ho fatta. Ok, siamo usciti. No, c'è. Cado. Ok. Scaletta. Ok, attraversiamo la scaletta. Oh, cacchio, c'è un altro salto. Allora, aspetta. Salto della libertà. Ok. Poi. Oddio. Cos'è quella roba laggiù? Che cos'è? Ok, aspetta. Ora? Ora? Oh! Aiuto. Aiuto. No? Ah! Ho perso un po' di vita. Oh, cacchio, oh, cacchio. Ahia! Ok. Sono fatto un ciuffetto nell'acqua. Poi. Ma il giorno. È diventato giorno. Allora. È diventato giorno. Ok, meno male. Almeno vediamo un po' di più. Allora c'è un'altra scaletta. Oddio, che cos'è quello? Oddio. Nevica. Che bello. Proseguiamo. Allora. C'è gente che... Oddio. 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 Ok. 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 Ci ho fatta. Fiu. Allora, poi. Poi, 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 poi. vediamo. Bellissimi questi paesaggi dove non si vede assolutamente nulla ma solo ghiaccio e neve, ghiaccio e neve. Oh! Una castante! Vedi? Ghiaccio e neve, ghiaccio e neve. Una castante! Oh, cavolo, no. Oh, addio. Ho visto una di quel tipo e ho detto addio. Oh no, bisogna passare da lì. Humanaging. Humanaging. Dobbiamo fare del parkour. Per caso. Humanaging. Uuuuuh! Oh, ok. Oh, aiuto. Chiama! Ok. Oh, ci ho fatta. Molto bene. Ma siamo qua. Oh, questo è il vestituto di rosa. Bene. Bene. Ciao. Ok. Questa cosa non mi piace proprio per niente. Quanto giù posso scendere? Ok. Aiuto. Aiuto. Ho paura. Uiii! Ok. Io ce l'ho fatta. Poi, sono questi tre tipi. E uno... Non lo so che bandiere sono. C'è della nebbia. Io seguo loro. Non è il tal caso. Io seguo loro. Non vedo una scippa. Aiuto. È tutto bianco. Ci sono dei buchi. Qua dove? Ok. Io seguo questo. Vediamo dove ci porta. Ciao, pipì! Oh no, oh no, non vedo. Oh no, ok. Devo salire? Penso. Ce n'è una? Sta morendo. È anche senza tuta. Ok. Viste, se abbiamo. Ah, vedi, c'è una scaletta là su in cima. Ok. Sto qui, un poverino, non c'è nulla addosso. Andiamo. Com'è? Ah, è coreana. No, è giapponese. No, è cinese. No, vabbè. È la bandiera giapponese o cinese? Ora mi viene un dubbio. Vabbè, una di quelle, insomma. Avete capito. Poi, qua, per questo pertugio molto stretto. Poi qua, illustraci, tizio, dalla bandiera strana. Oddio. Ok, saliamo. Saliamo, saliamo. Quella è caduta. Quella è caduta. Ok, continuiamo. Oddio, ma questo è piccolino. Questo è minuscolo. Guarda. È un bambino. Cosa ci fa un bambino in Antartide? Allora. Ma come lo faccio io? No, mi rifiuto. Mi rifiuto, ragazzi. Mi rifiuto. Non ce la faccio. Ok, vado. Tutto dritto, no? Oh, madonna. Oh, oh. Tutto dritto, tutto dritto. Filati delle tue capacità. Ok, giù. Che cos'è questo rumore? Oh mio Dio, che cos'è questo rumore? No, raga, ho paura. Mi devo mettere la maschera? Gli occhialini? Aiuto, no? Cosa vuoi te? No, raga. No, raga. No, raga, vi prego. Dovete mangiare? Salve! No, mi sto venendo l'ansia. Oh, ok. Oh, fiu. C'è questo rumore un po' brutto. Oh, madonnino. Advance! Uh, bello. Ah, vedi, ora si è in sala arrampicata, mi sa. Perché c'è questo po' paletto. Blu. Allora. You'll need... Mi dice che devo avere cinque spedizioni per poter sbloccare questa... Ah, ok. Ok. Avevo sbagliato. Da qui bisogna... Allora, io devo seguire i paletti rossi. Ok, i paletti rossi, ho capito. Questa... Che storta è questa? Signore, me la può addrizzare? No, eh? Ok. Allora, basta. Qua, perché continuo a non vedere nulla. Oddio, paura di che ne... Ok, ce l'ho fatta. Eh, qua. Questo è un pò indio molto... Ripi... Ok, continuo a... Ora vedo. Ora... Oh no, oh no, 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 no. Fermi tutti. Ok, ce l'ho fatta. Sono cadute delle tangle. Sono cadute delle tangle. Ci devo passare proprio per forza. Tecne è non guardare più. Guardiamolo. Ui! Diamo la madù. Diamo la madù. Eh, qua come fa? Posso sfruttare il filo? Non posso sfruttare il filo. Allora. Allora, signori, pariamone. Aiuto. Ho... Della lieve paura. Di cadere, di ricadere malissimo. Ah! Ah! Allora, non si può sfruttare. Allora, dobbiamo andare qua, qua. Ui! Ok. Va... Ok. Va bene. Iii! Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ho il 31% di vita. Eh, ora? O, ora? Ora qui? O, ora qui qua? Qui? Sì? Mi sembra di andare a contromano. Eh, ok. Di qua? Poi? Poi? Ehm... Di qui? Qui bisogna andare? Sono a buio. Oh! Ok. Era la stenda giusta. Non vedevo il paletto, non so dovevo andare. Ehm... Ecco qui. Così. Ok, sì. Stiamo iniziando a fare l'arrampicata vera e propria. Allora, clic. Ok, il prossimo paletto è qua. Siamo a... Altitudine 490... 489 metri d'altezza, più o meno. Comunque, ragazzi, ditemi se questo gioco vi piace. Perché a me piace un sacco. Non facciamo il salto della vita, mamma mia! Ok. C'è anche l'urletta nel frattempo. Oh, madonna mia. Allora, là! E' quello lì. Ok, sì. E' quello lì. Andiamo, andiamo, andiamo a... Ehm... Aiuto, non ci posso passare di qui. Ok, ce l'ho fatta. Ci volevo un po' di arrampic... Cudine. Quello lì. Poi... La prossima bandierina è questa qua. Quella... Oh! Non sono sola! Meno male! Mi sembrava di essere sola. Invece sono insieme a qualcuno. Meno male. Ok, c'è una scala. Continuiamo. Amico, vieni! Amico. Del... Non so... Oddio. Ok. Amico Frizzo. C'è il flash? Oddio! Mamma mia, stavo cadendo. L'avete visto, no? Aiuto? Non mi si gira nulla. Ok. Ecco qua. Oh, cavolo. Sto dicendo, vai prima... Mi sta dicendo, vai prima te. Ok. Guarda, è fatto. Ma stiamo... Ah, no. Pensavo stavamo tornando indietro. Allora. Saliamo. Ti 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 ti. Da sotto? Ma... Ah, ecco. Ma... Oh! Giorno! Giorno! Vabbè, no male! Giorno, grazie! Oh! È arrivato il giorno, finalmente. C'è anche della nebbia. Cavolo. Allora, continuiamo. Allora, continuiamo. Qua c'è un altro paletto. Quello lì cos'è? C'è un paletto giallo stavolta. È un'attenzione... Chi ha al 31% dell'ultima vita è pregato di tornare indietro? Cos'è? È un pinguino! Mensola per ghiaccio! Mensola per ghiaccio? Scusami, in che senso? Che c'è un pinguino! Che c'è un pinguino! È un pinguino! Guarda! Ma con lui c'è lo zainetto? Oh mio Dio! Ma un pinguino con lo zainetto, questo! Ma è stupendo! Ciao! È bellissimo! Lo posso prendere? Oh! Oh mio Dio! Questo coso è utilissimo! Allora, fammi bere un pochino. Ok, perché abbiamo sedi. E il 77% di energia, dai! Ci può bastare ancora per un po'. Cos'è? Una torre di vedetta? Che cos'è? Cos'è? Ah, qualcosa di trasmissione, aiuto! Il rumore! Sì, stiamo camminando... C'è una lieve aurora boreale! Guarda! C'è... Allora, poi, ci sono altri pinguini, no? Cosa c'è su quel cartello? Non ne ho idea. Comunque, quel... Quel pinguino con lo zainetto ti dava un'altra barretta energetica. Oh cavolo! Cos'è questo? Le fonti! Dobbiamo andare giù? Ma non moriamo per sempre. Ah, ok! Questo qui mi sta dicendo... Mettete la maschera e gli occhiali. Andiamo! No! Rega, a me c'ho il 31% dell'ultima vita! Cioè, non avete capito voi! Non ce la farò mai! Non ce la farò mai! C'è una funca! Ciao! Non ci fermiamo troppo, che se no... Aiuto! No, ci muoio! No, ci schianto! No, no, no! C'ho l'1%! No, raga, ci schianto! No, raga, ci schianto! No, ci aiuto! No, no, raga, ci schianto! Quella foca mi ha dato una sberla! Cos'è? Aiuto! Aiuto! Aiuto, ci muoio! Aiuto, ci muoio! Ci muoio, ci muoio! Ci muoio, è l'unica, ci muoio! No, no, no! Continua, continua, continua! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! No, 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 ci schianto! No, 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 non ce la faccio! Non ce la farò mai! Quanto è lungo ancora! Ci schianto! C'ho l'1% dell'ultima vita! Non hai capito, te! Oh, ok, 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 ok! Usciamo, che l'acqua è fredda! Ok! Raga, abbiamo l'1% di vita! dell'ultima video inizio a dubitare molto che che si possa arrivare alla prossima fase siamo arrivati oh mio dio siamo arrivati alla prossima fase ricerca e sabotaggio aiuto ok aiuto curatemi per favore mi curate per favore curatemi vi prego ho bisogno di cure solo no voglio delle cure raga ho l'1% voi non capite voi non capite ho bisogno del pronto soccorso ma anche in fretta però possibilmente allora vediamo un po' questo cos'è checkpoint ce l'hai fatta ce l'hai fatta per campo 1 qualcosa ok possiamo avere la nostra tenda tenda che dire ragazzi siamo riusciti ad arrivare alla seconda base con l'1% di vita dell'ultima vita io non so minimamente come io abbia fatto da quando è che registro direi ragazzi che questo video si può concludere qua faremo il secondo episodio e niente ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete un sacchissimo di like iscrivete al canale youtube attivate la campanella din don din don e ciao alla prossima al prossimo video ora io cerco un modo per curarmi in qualche modo ciao